Amici di YouTube, oggi sono a Salerno, ma non sono solo perché sono con la compagnia di Thomas. Ciao ragazzi! E siamo qui perché nei prossimi giorni Thomas effettuerà il suo secondo trapianto di capelli. Come ogni volta io partirei dall'inizio, ovvero da quando Thomas ha iniziato a perdere i capelli. Diciamo che già a 18 anni ho iniziato a perdere la parte, diciamo, dalle stempie e poi già ai 22-23 anni la situazione era veramente fuori controllo, avevo perso praticamente tutta questa linea qua e a quel punto avevo deciso di fare il mio primo trapianto eseguito a Madrid, perché all'epoca vivevo a Madrid, e già un minimo di risultati li ho ottenuti. Il problema è che anche già in quegli anni avevo anche, diciamo, perso la parte del vertex, la parte centrale, eccetera. E quindi dopo una lunga riflessione ho deciso di fare anche il secondo trapianto. Ti vorrei chiedere, prima di arrivare appunto a quell'operazione, hai fatto delle terapie farmacologiche con integratori? Prima del primo intervento no. E questa operazione come è andata? Come ti sei trovato? Come è andato il post? Diciamo che è andata bene, ma alla fine è stata un po' un'operazione parziale, perché la condizione in cui ero era, ok, le stempie lì, completamente deserto, ma stavo già perdendo molto anche di vertex e zona mid. E il dottore però a quel punto mi ha fatto, diciamo, solo la parte frontale, mi ha consigliato di fare solo quella per il momento. Però di fatto è stata un'operazione parziale, cioè non avevo coperto tutta la fascia che mi serviva. Di conseguenza sì, contento da una parte, perché la parte frontale bene o male è ricresciuta, anche poi facendo cure, le classiche che conoscete come magari minoxidil, prendevo con l'orale e lì mi ha dato degli ottimi risultati. Finasteride non l'ho voluto prendere. Con il dottore a Madrid facevo delle iniezioni che erano PRP ed udasteride, quindi quello ha un po' frenato e ha un po' aiutato, diciamo, i capelli indigeni a sopravvivere. Poi purtroppo il minoxidil orale in Italia hanno tolto dal commercio, che nel frattempo l'ho tornato anche in Italia, e a quel punto con lo spray sono un po' rimasto anche io non troppo costante, quindi non avendo poi anche il sostegno dei defamaci, tutta la parte Vertex e Mid, che chiaramente non aveva ricevuto il trapianto, avevo perso altri capelli e la situazione era, diciamo, drastica. Quindi dopo questo trapianto parziale, diciamo, come è andato il proseguo negli anni successivi? La situazione non migliorava, soprattutto nella parte del Mid e della Chierica, e quindi a quel punto mi sono convinto di fare il secondo trapianto, anche per non avere una differenza sostanziale tra la parte frontale e poi tutta la parte dietro. Secondo te hai perso anche i capelli trapiantati o solo gli indigeni? Lì è difficile da capirlo perché aveva ancora, sai, dei pelettini un po' nella parte proprio centrale, erano un po' mischiati, no? Lateralmente erano tutti andati e lì sembra, credo che abbiano attecchito bene quelli trapiantati, comunque un 80-90% dovrebbero essere rimasti. Al centro in realtà ho notato un po' meno volume, ma secondo me perché ho perso quelli anche indigeni che erano rimasti lì. Di base penso di aver ottenuto un buon volume, considerato che non c'era nulla nella parte frontale. Ok, arriviamo a quasi i giorni nostri. Certo. Poi in pratica ti entra in testa la volontà di fare una seconda operazione? Sì, diciamo che quando fai la prima, l'ultima cosa dici, vabbè dai, ora sto tranquillo un po' di tempo. In realtà per molti casi, almeno nel mio caso, non è sempre così, la mia era abbastanza aggressiva come alopecia. Quindi dopo un po' si ti autocominci, guarda, ho fatto la prima giusto per avere il lavoro completo, a sto punto cerchiamo di investire anche per la seconda. Poi basta, anche perché i capelli donanti non so quanti ne avrò, però sì, mi entra in testa sta cosa della seconda operazione, però a quel punto ho ricontattato la mia clinica a Madrid per capire un attimo, innanzitutto, se i prezzi erano aumentati, poi gli ersi erano aumentati, e poi che tipo di diagnosi mi facevano. Cioè, facciamo un'altra cosa parziale o a questo punto andiamo su qualcosa di un po' più completo? E di base non ho ricevuto un'ottima risposta, nel senso era, ok, ti facciamo soltanto la parte della chierica, la parte mid frontale, non so se faremo un infoltimento, e il prezzo era già anche più alto, mi ha detto quindi base è un'altra operazione a metà con un prezzo maggiorato, e a quel punto, insomma, ho storto un po' il naso, non era esattamente la risposta che mi aspettavo. Questa clinica la scarti? Ovviamente cerco la Turchia, visto che è il paese di riferimento, e devo dire che anche lì ero abbastanza spesato, un po' confuso, perché ci sono talmente tante cliniche, talmente tante opinioni, che anche andando poi sui forum, si è difficile, diciamo, avere un parere oggettivo, perché poi ci sono alcuni nomi che secondo me sono un po' del momento, no, che vanno di moda, che tutti vanno lì, poi cambiano, diciamo, vedendo delle foto però mi convinco su un paio di cliniche, c'era quella di Shercan, e chiedo una diagnosi per capire se anche lì riuscivano a darmi qualcosa di un po' più completo, no? Su 5-6 cliniche alla fine in totale penso che solo una mi abbia diagnosticato i 4.500, diciamo, unità follicolari di cui ho bisogno, su due, tra l'altro, giorni. Quindi molte mi diagnosticavano solo una giornata di intervento, questa perlomeno ha detto no, guarda, ho bisogno di almeno due giorni. E quindi lì ero già un po' più, diciamo, incoraggiato, scremato un pochino, e poi in realtà, continuando le mie ricerche, sono finito anche sul tuo gruppo, su altre cose, ero anche un po' curioso dell'Italia, no? Visto che comunque adesso mi aveva anche ritrasferito qua, quindi chiedendo in giro, e poi mi è arrivato il tuo commento sul gruppo Facebook della clinica Masullo, volete, aspetta, vediamo un pochettino. La risposta della Masullo Medical Group qual è stata? Sì, allora, con loro innanzitutto la parte che mi è piaciuta un sacco è la parte dove ti visitano prima di darti una risposta, no? Magari in altre cliniche come in Turchia, eccetera, hai una semplice mail, sì, magari gli mandi le foto, ma non parli con qualcuno, magari anche in videochiamata. Già lì con Masullo, Ilaria che è bravissima, che mi ha fatto proprio un'intervista di un'ora per capire esattamente le problematiche che hai, analizzare le foto, quindi già lì dici, ok, è un'altra cosa. Poi dopo di quello ti mandano appunto il referto con quello che c'è da fare, e la Masullo era una delle poche che appunto anche lì mi hanno detto esattamente, guarda, per fare un bel lavoro non ti posso fare 2.000 o 3.000 unità, in un giorno ho bisogno di prendermi due giornate, però almeno facciamo un lavoro fatto bene sulle 4.500 unità o più. E quindi sì, diciamo già dalla parte pre-operatoria capisci già come una clinica si approccia col mondo di oggi dove c'è tante domande e loro puntano a fare tanti interventi, tanto volume, trovare chi cura un po' il paziente anche pre-operatorio, eccetera, che non vede solo soldi nella tua... Sì, diciamo tratta un po' l'aspetto emotivo se vogliamo. Esatto. E poi soprattutto anche professionale perché se tu mi dici ti faccio un altro trapianto a 3.000 unità e ne ho bisogno di fare 4.500, non sei mai soddisfatto. Non sei mai soddisfatto. Quindi molto bene che Masul è andato dritto al punto e ha detto guarda, se vuoi devi fare due giorni, soffri due giorni e poi almeno hai un risultato completo. Altra cosa positiva, dopo diciamo la prontazione, eccetera, loro ti danno già una guida pre-operatorio e post-operatorio. Quindi in base il paziente arriva che ha già un'idea di quello che gli aspetta. Ora, nel mio caso, io avendo già fatto un'operazione, avevo già un'idea abbastanza chiara. Per uno nuovo ovviamente certe informazioni sono importantissime. La terapia magari può anche cambiare. Ecco un'altra cosa positiva, loro ti danno anche una terapia personalizzata. Poi ovviamente sappiamo tutti che... Per il post, intendi. Per il post, esatto. Poi ovviamente le cose base sono sempre quelle, minoxidili, finastidili, però magari certi integratori, la frequenza, certe cose possono cambiare e quindi anche questa è assolutamente una cosa positiva. Esatto, anche perché ricollegandoci al discorso di prima, tante cliniche che lo fanno solo per i soldi, ti fanno tra piante e ti dicono tante appena i minoxidili, Ma neanche, c'è tanti proprio... Ah, neanche... Eh, no, no, tanti filetini non ti seguono dopo. Eh, pensate... Cioè devi andare privatamente... Da un tricologo e farti seguire. Eh no, no, su questo per fortuna adesso da Masullo tutto in linea, tutto preciso, quindi domani entro con consapevolezza di dire ok, questo è quello che devo fare perché ricordiamo poi i risultati si ottengono anche quando mantieni il cappello indigeno che io adesso avendone ancora un po' nel mido e nel vertex non vorrei proprio perdere già dopo due o tre anni. Sei agitato? No, 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 dai siamo a Salerno, c'è il sole, il mare, eccetera, siamo belli rilassati. Thomas, è stato un piacere intanto conoscerti. Un piacere mio. Goditi l'ultimo giorno a Salerno. L'ultimo giorno dove posso vedere un po' di sole in testa. E in bocca al lupo, ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Tra l'altro la cosa bella è che entrerò in sala operatoria quindi potrò tenervi anche... Mi tieni la mano, mi dai, man forte, psicologica. A domani ragazzi. Sei carico. Carichissimo. Siamo, qui stiamo. Grazie a tutti.